ciao a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo video oggi andiamo a vedere su scacchiera reale in che modo riuscire a capire il livello del proprio avversario ovvio se giochiamo online è lo stesso sito che ci dice più o meno la forza del nostro avversario se è uguale alla nostra se è più forte se è più debole ma se stiamo facendo un amichevole così tra compagni di scuola tra colleghi di lavoro e vogliamo sapere qual è all'incirca il livello di gioco del nostro avversario ci sono alcuni trucchetti che voglio darti allora sistemiamo il re perché la cosa più brutta è una scacchiera avere i pezzi decentrati allora supponiamo che noi stiamo giocando con i bianchi e apriamo con e4 ora dalla prima risposta del nostro avversario possiamo capire tantissime cose possiamo capire qual è la sua esperienza quante partite ha giocato sei un giocatore forte eppure no se gioca una di queste mosse che sia pedone h7 h5 piuttosto che pedone a7 a5 stai giocando contro un principiante questa è una tipica mossa dei principianti poiché insomma gli inesperti si affezionano molto alla torre la prima cosa che vogliono fare è far uscire subito la torre tramite manovra di questo tipo mentre un giocatore esperto sa che i pezzi pesanti ovvero la torre donna e beh il re ovviamente non conta sono pezzi che devono uscire in un secondo momento non subito all'inizio dell'apertura quindi già con una di queste mosse riesci a capire qual è il livello del tuo avversario una mossa invece più emblematica di risposta è la normalissima e7 e5 questo tipo di difesa perché è molto emblematica perché viene giocata a qualsiasi livello la puoi vedere nella partita fra due principianti e la puoi vedere in una partita fra due grandi maestri questo tipo di difesa tutt'oggi ritenuta una delle più forti quindi viene utilizzata qualsiasi livello quindi qui devi aspettare un po di più prima di capire il livello del tuo avversario supponiamo che ora continui con cavallo f3 per sviluppare un cavallo e attaccare questo piedone la risposta ancora una volta ti darà ti farà capire quanto è forte il tuo avversario per esempio se continua con la corretta cavallo c6 ok allora probabilmente un giocatore che ne sa di scacchi conosce anche un po le aperture e sta giocando le mosse migliori se invece fa una mossa qualsiasi come una spinta di pedone laterale un sviluppo di cavallo all'esterno una mossa troppo passiva come alfiere 7 una mossa come donna f6 in questi casi stai giocando contro un principiante c'è qualcuno che non conosce i principi generali del gioco soprattutto non conosce come si giocano le aperture e in questi casi bisogna punire il proprio avversario perché se non puniamo l'avversario durante gli errori rischiamo che poi la partita vada per le lunghe e magari non riusciamo più a chiudere la partita e quindi che questa finisca patta o peggio ancora che la perdiamo ok quindi questo è più o meno quello su che c'è da sapere su e 4 e 5 se un certo punto il nostro avversario non risponde con e 5 ma risponde con c5 wow allora qui può essere che il nostro avversario ce ne possa dare di santa ragione questa è la difesa siciliana un po meno nota fra i principianti però anche qui vuol dire tutto non vuol dire niente bisogna vedere come giocherà poi le mosse successive però è già un tipo di difesa che ti fa capire che almeno il tuo avversario l'ha sentita almeno una volta a nominare questo tipo di difesa supponiamo che tu vada con cavallo f3 che è ritenuta la continuazione migliore a questo punto da questa seconda mossa difensiva del nero ovviamente riuscirai a capire tante cose ancora una volta le mosse corrette in questo momento possono essere d6 la più conosciuta e6 cavallo c6 g6 altre mosse invece che possono non so far uscire subito la donna come donna b6 piuttosto che donna a5 o ancora una volta cavalli che vanno esterno alla scacchiera o ancora una volta spinte laterali di torre fanno capire sì che il tuo avversario conosce quel nome di questa difesa ma poi non sa come deve essere come bisogna poi continuare in che modo bisogna posizionare i propri pedoni in che modo assumere la struttura pedonale quali sono poi piani di gioco che derivano da quella struttura pedonale eccetera eccetera quindi in queste prime mosse potete sapere tante cose una cosa molto importante ovviamente quando vedete mosse avve ora facciamo una cosa del genere quando vedete mosse di cavalli a bordo scacchiera queste sono mosse che devono essere sempre e dico sempre 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 tranne rarissimi casi puniti i cavalli all'esterno non vanno bene perché controllano solo due case tra l'altro in questa casa non si può andare perché c'è il pedone e in questa casa non ci si può andare perché c'è la donna mentre un cavallo centrale ha questa casa questa casa questa casa e questa casa quindi sono quattro case ecco perché un cavallo centrale all'interno è meglio che un cavallo all'esterno cavallo all'esterno deve essere sempre punita con alfiere per cavallo e probabilmente nella tua testa starai dicendo ma ho letto su alcuni libri che l'alfiere vale 3,25 mentre il cavallo vale 3 quindi l'alfiere vale di più io sto dando un alfiere per un cavallo perdo la coppia degli alfieri ok la teoria bisogna assolutamente conoscerla la difficoltà è riuscire a catapultare la teoria nella pratica cioè all'interno di una nostra partita adesso costringiamo il nostro avversario a fare questa mossa qui ora capisci perché ci abbiamo guadagnato? sì abbiamo perso un alfiere sì abbiamo perso il nostro alfiere camposcuro che era importantissimo però abbiamo distrutto i pedoni dell'arrocco poiché probabilmente il nostro avversario avrebbe fatto un arrocco corto questo pedone è debolissimo perché è difeso solo dall'alfiere adesso se riusciamo a portare un attacco su quel pedone praticamente è fatta e questo pedone qui non può muoversi quindi io direi che di vantaggio ne abbiamo è vero abbiamo aperto la colonna G ma con una buona difesa o semplicemente con un arrocco lungo ci togliamo tutti i pensieri e tutti i problemi ok? se giochiamo con i neri supponiamo che noi siamo i neri il nostro avversario è il bianco ancora una volta le aperture diciamo che si vedono più giocare sono senza dubbio E4 D4 C4 insomma le spinte centrali di pedone sono sempre cosa buona e giusta quindi se il vostro avversario apre con una qui c'è mancano dei pezzi apre con una di queste mosse probabilmente è uno che ha giocato qualche partita a scacchi nella sua vita ancora una volta se apre con attenzione questa è molto emblematica anche questa F4 può essere una mossa giocata da un gran maestro come il primo dei principianti perché? perché F4 va ad aprire questa diagonale che è molto debole la diagonale più debole che c'è e se si riesce a coprire questa debolezza con cavallo F3 che tiene le entrate di donna su H4 se si riesce a sviluppare il prima possibile ok allora il vostro avversario sa giocare bene se invece apre con F4 senza nessuna idea poi inizia a spingere G3 G4 inizia a spingere H4 ok state giocando contro un principiante che sta lanciando i propri piedoni in mano in pappa al vostro esercito cercando di fare chissà che cosa altro modo per capire se state giocando contro un principiante o no è che dopo che ha esaurito le mosse d'apertura supponiamo un po' di mosse muove un po' un po' a caso eh facciamo un po' di mosse così un po' di mosse così tranquillissime proprio tranquillissime a un certo punto sviluppo arrocco arrocco e a un certo punto toglie anche altro cavallo e noi togliamo anche questo ok a un certo punto più o meno è finita l'apertura e il vostro avversario non sa più cosa fare e inizia a fare mosse di questo tipo muove la torre allora voi spingete non so qui e rimuove la torre e poi spingete qui e rimuove la torre spingete qui e rimuove la torre questo è un altro modo per capire se il vostro avversario ha un'idea di cosa fare finita l'apertura perché voi state continuando a prendere più spazio sviluppare i vostri pezzi cercare una posizione migliore per il vostro schieramento mentre il vostro avversario non sapendo più cosa fare continua a muovere lo stesso pezzo avanti e indietro questo ovviamente è un altro sintomo di un giocatore che deve ancora maturare adesso ho fatto un po' di mosse a caso probabilmente c'era molto di meglio ma era giusto per riuscire ad arrivare in una situazione di questo tipo dove il nostro avversario continuava a muovere i pezzi sempre allo stesso modo ok? quindi questo è più o meno quello che posso dirti in merito alla mia esperienza quindi spinte di lato principiante spinte centrali potrebbe essere un principiante o un gran maestro dipende poi come continua e ora voglio rispondere a una domanda da un milione di euro qualcuno mi dice ma io che cosa studio a fare le aperture che poi io le studio so che bisogna giocare in questo modo so che il mio avversario deve rispondere in un certo modo poi il mio avversario non risponde in quel modo e io sono fregato e qui allora voglio risponderti qui devi punire l'avversario cioè dopo che tu giochi che ne so E4, E5, cavallo F3 e il tuo avversario non prende provvedimenti per tenere questo pedone che è sotto minaccia e fa che ne so una mossa come B6 o decidi di punirlo subito o più tardi ma prima o poi devi prendere provvedimenti per cercare di prenderti quel pedone non so adesso puoi giocare anche alfiere C4 non devi dare che la presa subito dà fastidio allora qui il vostro avversario continua con altre mosse che non hanno molto senso ah ok allora adesso cosa fai? finalmente ti prendi questo pedone ok? e quindi ora c'è un bellissimo attacco su F7 cioè punire quando vedete che il vostro avversario va fuori apertura non risponde con le mosse migliori che voi avete studiato significa che c'è qualcosa che non va quello deve essere un campanello d'allarme che vi fa dire devo trovare il modo di fregare il mio avversario perché se non ha fatto la continuazione che ho studiato io vuol dire che non ha fatto la mossa migliore magari ha fatto una mossa buona e non migliore quindi non ci sarà il modo per fregarlo o magari ha fatto un errore allora lì voi dovete fregarlo per questo è importante studiare le aperture per capire come, dove e quando fregare i vostri avversari bene ragazzi questo ritorno sulla scacchiera reale spero che vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto come al solito vi invito a iscrivervi al canale lasciare un like e ci vediamo domani con un altro nuovo video ciao e ora per continuare che cosa posso fare? beh innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni e poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana ci vediamo ciao